Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, oggi è lunedì e siamo al 17 di febbraio, ben ritrovati carissimi telespettatori, 18? Ah sì perché oggi, ieri era 17, domenica oggi è 18, il carnevale ci ha un po' scombussolato. Allora dicevo oggi è il 18, questa è la Rassegna Stampa, andiamo subito a vedere il santo e poi il tempo, i santi anzi perché a parte il beato Giovanni da Fiesole che ricorda il martirio oggi romano, ma ci sono importanti oggi santi sette fondatori dell'ordine dei servi della Beata Vergine Maria, per esempio a Pesaro c'è la chiesa di Santa Maria delle Grazie in centro che è proprio portata avanti, custodita dai servi di Maria. Il sole è sorto alle 7.04, tramonterà le 17.40, il tempo dicevamo, allora andiamo a vedere lunedì, lunedì 18, oggi avremo cielo sereno, poco nuvoloso, mentre domani un po' di foschie e banchi di nebbia nelle prime ore della giornata, però tutto sommato sarà tempo stabile e soleggiato. Anche per tutta questa settimana insomma avremo ancora sole senza precipitazioni. A proposito di sole, carnevale ieri di Fano che ha debuttato con 10.000 circa persone paganti, ha debuttato appunto con il bel tempo e ne parla il giornale questa mattina, i due quotidiani, Carlino e il Corriere, anche se il titolo in apertura è per il Museo di Rossini. L'inaugurazione ci sarà entro il mese di aprile, Vimini svela i primi dettagli sull'allestimento, polo culturale e internazionale. A centro pagina invece, guardate questa signora con la scopa in mano, è una donna che quasi tutte le mattine si mette a pulire in piazza del popolo da cartacce e quant'altro. L'immagine è diventata virale sui social perché l'ha ripresa il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, ha chiesto chi fosse, ha lanciato questo appello, se qualcuno la riconosce segnalatemelo, ditemi chi è perché la voglio premiare, così ha scritto Matteo Ricci sulla pagina Facebook e in poco tempo si è capito che questa donna è una donna straniere che risiede a Pesaro e che adesso appunto probabilmente verrà premiata dal sindaco. In prima pagina, sempre sul Corriere Adriatico, la notizia del Carnevale, in 10.000 prova biglietto superata, grande flash mob contro la violenza di genere, spadafora colpito dalle mascherate dei bambini. E queste sono le fotografie del Carnevale che supera la prova del biglietto, nel senso che nonostante si pagasse, insomma questa volta dopo tanti anni, 19 anni di ingresso gratuito, c'era l'incognita sul fatto che la gente potesse comunque partecipare a questo evento pagando. Ebbene, la prova in questo senso è stata superata, diversamente sul fatto della stampa del biglietto, tempi d'attesa e quant'altro, lì in realtà c'è molto da migliorare perché ieri si sono registrate molte code, tanta gente insofferente per la lunga attesa al botteghino per poter entrare al Carnevale. Oltre 10.000 spettatori, scrive il Corriere Adriatico, questa mattina alla prima sfilata, coda alle casse, diversi rinunciano, riuscito il flash mob. Belli e ispirati, secondo Massimo Foghetti, che ieri è stato nostro ospite in diretta qui al processo al Carnevale. Belli, dicevo, ispirati ai nuovi carri allegorici e dedicati all'universo femminile. E il sindaco Massimo Seri fa il voulon, lo vedete Massimo Seri, in questa immagine, con la collega di San Costanzo, Margherita Pedinelli. L'altra pagina, sempre del Corriere Adriatico, dedicata al Carnevale, è per la mattinata, un'altra mattinata dedicata al Carnevale dei Bambini, un grande spettacolo, talento e originalità sul tema delle donne. Le scuole si distinguono nel rinverdire la cultura locale del Carnevale, Viale Gramsci, gremito sin dalle prime ore. E poi sotto, invece, la notizia della premiazione del palco più bello, che ha vinto il primo premio di questa domenica, il palco delle Mimose, mascherata a fine al tema dei colori femminili per tutti i weekend a Matera. Adesso, invece, andiamo sulle pagine di Pesaro. Natusco è la ragazza della scopa di Saggina, il post di un'amica, le foto in cui pulisce la piazza, fanno il giro del web. Per questa donna, la regina del Pulito, sarebbe già pronta una ceramica della tradizione pesarese, in segno di creditudine da parte dell'amministrazione e della città. Per il sindaco Ricci, un altro successo mediatico. Il giornale scrive, tra parentesi, involontario il successo mediatico. Insomma, adesso, proprio involontario del tutto, non ci metterei la mano sul fuoco, perché bastava scendere giù, dire, signora, chi è, piuttosto che fare tutta questa cosa. Però va bene, va bene così. La commissione, scusate, la commessa dice, tra i vari commenti che sono seguiti al post del sindaco, dice, vabbè, allora io che faccio la commessa, tutte le mattine che pulisco davanti al mio negozio, voglio anch'io il premio, che spazzo la strada fuori dal negozio tutte le mattine. Oppure l'altro cittadino che ricorda, ma scusate, non ci dovrebbe essere qualcuno preposto a questo tipo di servizio. L'altra pagina del Corriere, cancellare l'azienda ospedale Marche Nord, sanità in allarme per le parole di Busilacchi, scelta più politica che di riforma, con un sostegno trasversale dei tanti arrabbiati con Ceriscioli. È un articolo da leggere, interessante, ma diciamo più per addetti ai lavori. Ma sul Museo di Rossini, invece, quello che sarà allestito al primo piano di Palazzo Antaldi, l'inaugurazione dovrebbe avvenire entro il mese di aprile. Ricci e Vimini svelano i primi dettagli su questo allestimento. Pronto il bando per affidare i lavori. Quella rotatoria, sempre a Pesaro, non mi convince proprio, sono le parole di Matteo Ricci. Il sindaco sul rondò di Largo Tre Martiri non lo convince, ha scosso la testa quando è uscito dalla sala degli incontri per, dopo aver parlato con i tecnici, non sono ancora soddisfatto. Ha detto, si crea troppa coda in uscita da Pesaro. Stiamo a vedere cosa succede, ma qualcosa bisognerà fare. Cercheremo, dice l'assessore, invece di portare gli accorgimenti tecnici necessari per far sì che la situazione sia la più fluida possibile. E questa è invece la pagina di Senigallia, dopo il premio anche il palco, per non dimenticare la Shoah, un video e uno spettacolo a San Rocco per i ragazzi della Terza E della Scuola Fagnani. Da Recanati, mezzo chilo di eroina in un borsello, pakistani arrestati all'hotel Ausi, manette due giovani, erano a bordo di un'auto, la droga avrebbe fruttato decine di migliaia di euro. Da Vale Foglia, invece, Avis e Aido di Colbordolo, due realtà unite nella ricerca di donatori, rispettivamente di sangue, l'Avis e poi l'Aido invece donatori di organi e soprattutto uniti dalla volontà di donare sempre sia da vivi che anche, insomma, oltre, quando uno poi muore. Sabato 23 prossimo, sabato 23 febbraio, alle 19.30, al Teatro Parrocchiale di Talacchio, prevista la pericena e l'assemblea di entrambe le associazioni di volontariato. A Fermignano, invece, auguri e rose rosse per i cento anni di Paolina Balduini, la più anziana cittadina di Fermignano. E il sindaco l'ha festeggiata, lei è una storica commerciante di scarpe, un negozio fondato nel 1947 con il marito in corso bramante appunto a Fermignano. E ancora dalla pagina di Urbino si parla di amministrative in pista pro contro il sindaco, nessuno lo dice o lo ammette, con chi andrà Lino Mechelli e soprattutto che forza avrà, con chi andrà alle prossime amministrative di maggio, la lista Urbino, città ideale. Mechelli ancora non svela la collocazione politica, siamo alle rifiniture e poi ovviamente scioglierà la riserva. Da Serra a Sant'Abbondio, invece, stoppa il dissesto idrogeologico. Il Comune Serra rafforza le sponde del cinisco per evitare le esondazioni, si cercano fondi per consolidare i tubi che ingabbiano il torrente sottoterra, mentre sotto a Fossombrone pezzo di cornicione del municipio crolla durante la notte, frammenti ritrovati in via Vescovado, nessuno fortunatamente è stato colpito. E questo invece è il resto del Carlino. Anche il Carlino, in primo piano, mette la fotografia di questa donna che pulisce. Per lei è un gesto normalissimo, per altri, come per il sindaco, appunto, un gesto da premiare. Una spazzina fai da te. dice Ricci, questa donna è un esempio, un esempio di educazione civica, è giapponese, si chiama Natsuko Takase, protagonista di questa vicenda, suo malgrado, perché stava facendo quello che lei si sentiva di fare in cuor suo. Poi va a sbattere, invece, da Fano, va a sbattere con la macchina, poi scatena il caos, è successo a bell'occhi di Fano, lo vedremo tra poco, un episodio concitato. E poi il caso di quell'uomo trovato a letto con le ossa rotta, la madre continua a dire, è inspiegabile tutto questo. Verso il voto a Pesaro, elezioni, briglia, si tira fuori, niente lista, mentre troverete all'interno dello sport, le pagine sportive, per quanto riguarda la VL, l'intervista al coach, dice, un coach deve essere un po' come uno scultore. E poi, in Toscana, una coppia di ballerini è stata derubata, hanno rubato gli abiti per l'esibizione e quindi l'esibizione è saltata. E queste sono le fotografie, invece, che il resto del carino pubblica sul Carnevale di Fano, sono i tre carri nuovi, così come quello, invece, già visto di Rossini, sotto le mascherate, il sindaco vestito da Voulon, la maschera tipica del Carnevale di Fano, insieme alla presidente Maria Flora Gianmarioli, poi il corso mascherato, c'era tanta gente, comunque 10.000 persone, 10.000 paganti. Oggi, questa sera, nel telegiornale delle 20.30, cercheremo di darvi esattamente il numero dei tagliandi staccati, quindi venduti, e l'importo esatto dell'incasso di questa prima giornata, che dovrebbe essere intorno ai 60-70.000 euro, però, chiaramente, sono tutti conti fatti un po' così della serva, come si dice, bisognerà attendere quelli ufficiali della Carnevalesca. Non solo festa, però, l'avvio di questo Carnevale 2019 è stato con il caos, soprattutto dei biglietti, tanti rallentamenti, la Gianmarioli rassicura, però, il problema è stato già risolto, e ottima, comunque, è stata l'affluenza del pubblico. Dicevamo di questo incidente, che è avvenuto a Bellocchi di Fano, nella giornata di ieri, in via Prima Strada, dove, tra l'altro, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale e il commissariato di Fano, intorno alle 15.30, una donna di 45 anni del posto, alla guida della sua auto, vedete, nella fotografia a destra, più piccola, si è schiantata, poi, insomma, lì, è andata, insomma, fuggita dai soccorsi, è litigata un po' con tutti, momenti concitati, con intervento di 118, come dicevamo, polizia e pompieri. Sotto, invece, da questa coppia di ballerini, Antonella Pompili e Vittorio Pagini, sono partiti, alla volta di Prato, in Toscana, da Orciano di Pesero, per partecipare a una gara di ballo. Poi, alla fine, questi sono andati, hanno soggiornato, hanno dormito in un albergo cittadino, al mattino, quando sono andati in macchina, hanno visto che l'auto era stata aperta, e dentro avevano i ladri rovistato tutto quanto, hanno portato via questi vestiti, tre vestiti per l'esibizione, che valgono all'incirca 3.500 euro, così come scrive il giornale di questa mattina. Adesso loro dicono, chiaramente non abbiamo potuto partecipare alla gara, però, insomma, se qualcuno dovesse ritrovarli, ecco, ci faccio sapere, perché, insomma, non credo che siano utilizzabili, a meno che non c'è un mercato parallelo che possa rimetterli in vendita. Poi, da Pesero, sempre il resto del calino, racconta di queste 70 persone che sono andate a fare fitness lungo la spiaggia e al tempo stesso raccogliere i rifiuti in spiaggia. Marcia dal campo di Marte, alla palla di pomodoro, l'assessore Franca Foronchi dice, movimento e senso civico a braccetto. E poi, invece, la notizia ripresa dal resto del Carlino, quella che riguarda l'uomo, quest'uomo di quasi 40 anni, che è andato a letto l'altro giorno, si è risvegliato, però pieno di fratture. Questo mistero che ancora va avanti è un fanese, un fanese che adesso è ricoverato dal San Salvatore di Pesero, con le ozza rotte, l'ansia dei familiari, e soprattutto l'interrogativo, come si fa ad avere certe fratture, ma senza neanche un livido. Lo ricordiamo, lo ricorda il giornale questa mattina, è un fanese che appunto ha quasi 40 anni, trovato con le ossa rotte, bacino e spalle, e il cuscino sanguinante nel letto di casa alla periferia di Fano, venerdì mattina, intorno alle 5, ancora non si riesce a ricostruire, a spiegare quello che gli è successo. I medici continuano a sottoporlo ad accertamenti e tra qualche giorno dovrà essere trasferito al Torrette di Ancona per l'intervento al bacino. E adesso andiamo a vedere le pagine di sport. Intanto, in Serie A2, la vittoria di un derby molto sentito nel basket marchigiano, la Mengi Shoes che soccombe in casa contro la Golden Plast a Potenza Picena, la Golden Plast ha vinto 3 a 0, la differenza nell'attacco dei Potentini e nel primo parziale Macerata ha sprecato 3 set ball. Una partita che potrete vedere questa sera dopo il telegiornale di mezzasera, quindi verso le 22.30, una partita, un derby molto bello che si è concluso in fretta con 3 set vinti da Potenza Picena contro appunto Macerata. Dagli spogliatoi dipinto dice c'è da lavorare mentre Rosichini del Potenza Picena quanta determinazione i miei ragazzi. E sotto ancora invece per quanto riguarda il calcio per il Fano un punto pesante, i Granata sono tornati da San Benedetto con un pari preziosissimo nella lotta per la salvezza, poche emozioni e niente spettacolo ma in questo momento le priorità dei Granata sono altre. Mentre la Vis si è inceppata i numeri sono impietosi nelle ultime dieci partite appena si è i punti racimolati come l'ultima in classifica e a proposito di risultati di classifiche allora abbiamo detto Samb Fano 0 a 0 Vicenza Fermana 0 a 0 Vis Pesero Albinoleffe vince l'Albinoleffe in casa della Vis per 1 a 0 il prossimo turno Fermana Pordenone alle 16 e 30 Monzo a Fano alle 16 e 30 Imolese Vis Pesero alle 20 e 30 e San Benedettese Samba Ternana sempre alle 20 e 30 la classifica la vedete anche voi la Fermana ha 37 punti la Samba 34 e la Vis Pesero a 33 il Fano un po' più giù ha 28 punti mentre la Lube e torniamo alla Pallavolo di Lega un tornado su Modena ha vinto 3 a 0 all'Eurosole di Civitanova contro l'Azimut di Modena e come dicevamo appunto la Golden Plast che abbiamo visto e che potrete vedere stasera come dicevamo in esclusiva sul canale 17 di Fano TV l'informazione alla segna stampa finisce qui grazie per essere stati con noi per averci seguito vi ricordo questo numero di telefono per le vostre segnalazioni alle 20 e 30 c'è il telegiornale su cui seguirà primo cittadino e adesso il nostro Riccardo Sora ci dirà al microfono chi è il primo cittadino che è ospite questa sera del nostro programma di Sant'Angelo Invado avremo il sindaco di Sant'Angelo Invado grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti grazie a tutti